Hey guys, welcome back on DarkVenties Ciao a tutti e ben ritrovati su DarkVenties Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico Sono Keim, Matteo Camarda, scrittore E perito tecnico del commercio internazionale per il marketing Vi faccio conoscere la mia cagnolina Se si vede Ciao tizia L'ho riuscita a vedere, era piccolina Ok, la mia postazione di comando Come vedete, qui è da dove faccio tutti i miei videozzi di YouTube Volevo dirvi che Oh cavolo Che Sto un attimo fermo, mi siedo Che volevo, intendevo a farmi vedere un attimo di persona Per rinfrescare la memoria a tutti quegli iscritti Che non si sono fatti vivi in questi giorni Per rivedere i video vecchi Cioè È un invito questo a rivedere tutti i video del canale Perché ne avete visti un po' in pochi E mi piacerebbe che guardaste tutto il canale completo Perché abbiamo tantissimi contenuti di vario genere A cominciare dalle clip di film, serie tv e altri documentari a volte Ma anche contenuti originali con la brand Dark Vanities Quindi vi saluto Invitando tutte le persone che non hanno visto i nostri video a iscriversi Scusate il rabidamento è un po' strano Ma sono a 35 gradi Siamo al 23 luglio 2021 E vi saluto Il coronavirus Aspettiamo con... Ho preso il green pass Aspettiamo 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 Aspettiamo